tutti 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 e se tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video in cui come da tradizione estate 2019 il blog di aqua porca di monreale e per cominciare questo nuovissimo video lasciateci i like di mi piace e come sempre e continuate iscrivete il mio canale che gabrie game 99 e vi volevo ringraziare per l'ultimo video che ho fatto della challenge di stare fermi per mezz'ora ho avuto 5 like continuate così a vedere questo video lasciate tanti like spolliciate e spolliciate anche in questo video del blog e niente mi trovo qui in compagnia con tanti amici tra cui voglio presentare e deve venire assolutamente claudio schiero ciao a tutti seguite il canale gabby gamer madonia 99 a 37 signori che mi piace come sempre bravissimo comunque mi volevo dire una cosa che io in questi giorni sto lavorando al mio libro la vita di uno youtube sono arrivato a 14 pagina grazie mille e sto per arrivare a 15 pagine mi devo vedere se devo continuare oppure no altrimenti vado avanti mi fermo a 20 perché tipo 30 40 50 non ne posso fare né ora né mai e adesso io ci vedo dell'acquapark e vi faccio mostrare i scivoli ecco il mio caristro mi devi mettere nel vlog dopo questo video 100 iscritti 100 in più iscritti di io la cento l'ho superato no un efficiente iscritti a così 100 mi piace per questo video lasciate lascia il link in descrizione di se allora come ha detto il mio mio amico lasciate 100 like vi sfido a lasciare 100 like su questo blog se ci arriva altrimenti non fa niente comunque ormai sono diventato tanto influenza da fare un sacco di video tante cose e niente vi volevo ringraziare per tanti che mi seguite come sempre mi volete bene che ci tenete a me il mio canale mi seguite su instagram su facebook e tutto quanto per concludere questa questo blog rimando un bacio risoluto a tutti a tutti quanti un bacione grande e buone vacanze e buona estate 2019 e ci vediamo al prossimo video ciao belli